Che dire, questo film non esisterebbe senza il Piemonte, è nato qui, è stata la pietra prima e fondamentale della regione Piemonte, la sua Film Commission attraverso cui si potesse pensare di costruire il percorso di questo film che è stato, come sapete, molto difficile, molto lungo, senza questa prima e fondamentale pietra non sarebbe mai successo nulla ed è impressionante per me ricordare l'inizio, i primi contatti, quando ci siamo visti la prima volta avevamo una sceneggiatura che era ancora poco più di un trattamento, i primi sopralloni e sentire la tensione, l'adesione, la lealtà che ho sentito nel primo momento, quando parlavamo con Sti della Casa, con Alberto, Barbera, insomma tutte le persone che sono state poi fondamentali e come questa intensità, questa tensione, questa lealtà si è andata avanti sempre, senza mai cedere, superando tutte le difficoltà che sono state tante, arrivando fino alla fine, arrivando fino a questa mostra straordinaria di cui sono molto felice perché l'idea di proiettare, di esporre i fotogrammi è molto forte, vedrete, molto bella, si ha veramente la sensazione che il film diventi così, venga fuori dal suo fluire e si fermi in una maniera molto, insomma mi ha molto colpito, io sono venuto stamattina, andavo a teatro a lavorare, sono passato le nove, avevo aperto da poco il museo, ho detto quasi mi infilo, così zitto zitto, sono andato, mi sono visto la mostra da solo, è stato, devo dire, bellissimo. Il film veramente ha preso sostanza in un processo, ecco, in cui Piemonte e Torino hanno avuto un'importanza veramente grandissima e ogni cosa importante ha a che fare con un processo, cioè non esistono prodotti in sé, non esistono cose che possano essere confezionate in maniera, come dire, un lavoro come questo deve la sua forza al processo che ha investito appunto tante persone, gli attori che sono, come dire, hanno aderito in una maniera impressionante, insomma, e la mostra dà molto questo insenso, la scelta magnifica di Alberto Barbera delle fotografie, delle immagini, una per una, le didascalie, da lui scritte che costituiscono un ulteriore montaggio all'interno, tanto noterete come la famosa immagine del cemento armato e tanto fa scandalo ogni volta, con che attenzione, con che cura è composta da Alberto nella mostra e come spiega in maniera così chiara e immediata il perché di quella scena. Ecco, quindi quello che mi fa piacere è che sostanzialmente la cosa più forte di tutto questo è questo noi che campeggia, che tanto mi aveva attratto, noi credevamo, questo titolo di Anna Banti, cioè l'idea di un processo collettivo, delle persone che ci hanno lavorato per anni e anni, c'è Paola Rodra che con Raffaele appunto è stata aiuto regista decisiva, fondamentale, la Campania e il Piemonte, Marzia Milanesi che non so dov'è, per dire l'ufficio stampa, insomma come dicono è una cosa, si è battuta come una leonessa, cioè l'idea militante che è stata alla base di questo film e a cui secondo me si deve non solo il risultato ma si deve poi la trasmissione al pubblico, cioè la sorpresa che Alberto diceva, che noi tutti abbiamo avuto, perché io sinceramente voglio dire è un film in cui ho sempre creduto, però era difficile magari pensare che fosse proprio la risposta del pubblico a dare la grande adesione, si poteva pensare, chissà, magari venisse valutato a Venezia con più di attenzione oppure cose di questo genere, ma invece l'idea che fosse il pubblico, che è stato naturalmente il migliore e il più importante dei premi pensabili, è così deve credo a questa trasmissione, cioè il lavoro, il film è fatto di questa energia collettiva e questa energia collettiva in qualche modo esce dallo schermo e si trasmette allo spettatore. Dunque, insomma, davvero grazie, sono davvero felice e orgoglioso di essere per un pezzo torinese, ormai comincio a sentirmi un po' torinese, adesso con la messa in scena del mio primo spettacolo da direttore, naturalmente questa acquisizione di cittadinanza si accresce e si rinforza e così quello che vorrei dire, insomma, conclusione di tutto questo, quindi come di note molto felici, che sono oggi quelle che posso esprimere riguardo al film e a tutto il lavoro, sono invece, non posso trascere invece di qualche cosa di molto infelice che accade, cioè nel senso che noi non avremo più nessuno, noi prelevamo, non avremo più libri sull'argomento, non avremo più un museo del cinema, non avremo più niente, cioè in Italia è in atto una strategica distruzione del sistema culturale, una vera e propria guerra.